Un viaggio breve ma carico di aspettative e di speranze. L'ormai imminente pellegrinaggio di Papa Francesco in Terra Santa assume contorni sempre più netti dalla fitta agenda che scandirà la tre giorni sul tema Utunum Sint, perché siano una cosa sola, fino all'inno ufficiale. Tra Amman, Betlemme e Gerusalemme, a 50 anni dallo storico incontro tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora, il Pontefice rilancerà l'urgenza della piena comunione, abbraccerà e sosterrà la comunità cristiana, pregherà per la pace in una terra dove i negoziati tra israeliani e palestinesi faticano a decollare. I segni di vicinanza saranno tanti, secondo le diverse anime che caratterizzano questi luoghi, dall'incontro con le autorità del Regno di Giordania, quello con le autorità palestinesi, dalla visita al Gran Mufti di Gerusalemme, alla visita al Muro Occidentale, al Memoriale di Yad Vashem, fino all'incontro con i due gran rabbini di Israele. Con noi il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni. Questo è il quarto viaggio di un pontefice che visiterà lo Stato di Israele e come ogni altra esperienza di questo tipo la comunità ebraica la segue con interesse, curiosità e qualche speranza. Quello che è importante è segnare un rapporto di continuità con quello che di buono c'è stato nelle esperienze precedenti. A oltre un anno dall'elezione del pontefice venuto quasi dalla fine del mondo si sente di tracciare un bilancio nei rapporti tra cristiani e comunità ebraica. Il bilancio direi è positivo, c'è un rapporto di simpatia, di canali di comunicazione aperti e di reciproca stima e di grande potenzialità di collaborazione. Recentemente sono stati proclamati i Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II che hanno lasciato un segno tangibile nel dialogo tra cristiani ed eprei. Sono stati due papi che hanno contribuito ciascuno nel suo tempo e ciascuno con il suo stile al miglioramento dei rapporti della Chiesa Cattolica con il popolo ebraico e per questo motivo il fatto che siano stati additati ai fedeli della Chiesa Cattolica come degli esempi positivi non ci può altro che far piacere. È possibile tracciare un itinerario della strada che ancora ci resta da fare verso la fratellanza? Le questioni aperte sono tante, ci sono delle questioni ideologiche ma al di là di queste ci sono delle questioni di amicizia che va consolidata, di rispetto, di possibili campi di ricerca inesplorati sulle nostre storie comuni che si sono intrecciate e poi c'è l'impegno nel sociale e diciamo nella città, quindi sono cose molto importanti che ci chiamano molto spesso a lavorare insieme. La teologia può rappresentare un macigno mentre invece la conoscenza tra le persone è cosa molto più diretta ed essenziale e molto spesso è proprio sulle persone che stabiliscono amicizia che si costruisce un rapporto fecondo. Qual è il ruolo che deve giocare la religione in una società tanto confusa oggi sotto diversi punti di vista? Abbiamo dei valori che dobbiamo testimoniare, non imporre e di cui la società ha bisogno, soprattutto in periodi di sbandamento come questi ed è importante che da questo punto di vista si possa lavorare almeno parallelamente.